che iniziamo. Innanzitutto do subito il benvenuto al professor Roberto Balsani e vi chiedo subito di accoglierlo per favore, grazie con un applauso. Roberto molto generosamente, veramente lo ringrazio sentitamente, ha accolto questo invito e abbiamo spiegato anche l'occasione e nell'ambito di che iniziativa ci troviamo. Quindi questo a mio avviso aggiunge ulteriormente generosità alla sua disponibilità, avendo lui numerosi impegni. Roberto, a te, due parole, nel senso sulla nostra scuola per invece contestualizzare a te la tua presenza oggi. È il secondo anno di un'iniziativa, Summer School in Entrepreneurship in Humanities, che la Fondazione Golinelli ha inteso promuovere. Loro sono fondamentalmente una classe di 35 persone, ragazzi e ragazze, con formazione universitaria magistrale o anche dottorandi e ricercatori provenienti da tutta Italia, con un profilo prettamente umanistico, che con noi affrontano questo percorso di due settimane intensive, con l'idea di sviluppare delle idee imprenditoriali proprio nel settore dell'arte e della cultura dei beni culturali. Il percorso è intensivo di due settimane, qui siamo nel centro di arte scienza della Fondazione Golinelli, che è un'iniziativa che abbiamo avviato da due anni e che sostanzialmente combina attività di ricerca, attività espositive di cui peraltro tu sai qualcosa rispetto al futuro dell'iniziativa che ci attende per novembre e a dei momenti di didattica e di formazione. Durante queste due settimane hanno affrontato una serie di attività in aula, frontali con personalità e con esponenti esimi della cultura italiana al partuo, penso a professori Boitani, professori Viscogliosi, adesso ne cito alcuni, non mi vengono in mente tutti evidentemente, poi dopo parallelamente vi è un'attività di ingegnerizzazione delle idee imprenditoriali e sono stati tre momenti di apertura a personalità trasversali che vengono dall'esterno evidentemente della scuola. Abbiamo avuto la scorsa settimana il dottor Christian Greco che è il direttore del Museo Egizio di Torino e poi dopo il dottor Menegori che è il direttore artistico di Artefiera Bologna e oggi abbiamo tre. Figure estremamente poliediche ed eterogene evidentemente ma tutte da noi individuate, per fortuna abbiamo avuto il vostro ok nel partecipare all'iniziativa perché riteniamo che possiate essere degli splendidi punti di riferimento o quantomeno incarnate in voi stessi nel vostro percorso, nella vostra esperienza, quello che pensiamo come Fondazione Golinelli di voler rappresentare come modello a cui aspirare per gli obiettivi che ci poniamo con la scuola. Abbiamo un'oretta insieme, io farò una breve introduzione del professor Balzani rispetto alla sua esperienza, dopodiché abbiamo concordato alcune domande che io porrò a lui ma come abbiamo già fatto la settimana scorsa un po' per rompere il ghiaccio, in realtà sono domande che ho formulato nell'idea che le risposte possano essere di vostro interesse e quindi in linea con gli scopi della scuola, però poi dopo lui è qua per voi, non per me principalmente e quindi vi chiedo cortesemente di intervenire e di dialogare con lui. Allora molto brevemente scientificamente perché in realtà la sua esperienza è vastissima, Roberto Balzani è professore ordinario di storia contemporanea presso dipartimento di storia, cultura e civiltà dell'Università di Bologna, è stato perso della facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna nel 2008 e nel 2009, poi ha avuto una importante esperienza amministrativa come sindaco della sua città di Forlì dal 2009 al 2014. Dal 2015 è presidente del sistema museale dell'Ateneo di Bologna, dal 2017 è responsabile scientifico dell'archivio storico dell'Università e sempre nel 2017 è divenuto presidente dell'Istituto per i beni culturali, l'IBC, l'Istituto per i beni culturali e naturali della regione Emilia Romagna. Lui è fondamentalmente un ricercatore, uno storico e esperto di patrimonio culturali, di amministrazione in età contemporanea e della storia politica e sociale del XIX secolo. Collabora con il Sole 24 Ore, ma nel suo ruolo di ricercatore e divulgatore è anche uno scrittore molto prolifico perché io ho contatto circa più di 30 libri, circa una trentina di libri di volumi scientifico, didattici e di saggi dal 91 ad oggi, quindi sono circa uno all'anno. È, ripeto, un personaggio di enorme e vasta cultura e siamo interessati a lui come persona, ancora più che professionista e, ripeto, lo ringraziamo molto per essere qua. La prima domanda, la prima domanda che abbiamo potizzato e condiviso, è condiviso. Roberto, qual è stata la tua più grande passione del ragazzo e quale la tua passione più grande attualmente? Beh, diciamo che la passione, soprattutto grazie, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, naturalmente, mi ha fatto estremamente piacere questa occasione che per me è un momento di cui sono anche emozionato perché veramente non mi capita frequentemente e mi pare che costruita così abbia un bellissimo senso. Devo dire che la passione è la stessa, nel senso che io ho maturato da ragazzo, da bambino, una passione per la storia, adesso spiegherò in che senso, perché diciamo che dirlo così astrettamente sembra di essere un disadattato, diciamo, questo è, e la stessa cosa ho conservato nel tempo. Ma la storia in quale accezione? La storia per me era, diciamo, una specie di catalizzatore antropologico, cioè a me interessava le persone che stavano intorno a me, gli esseri umani, e dall'altra parte interessava, nella stessa maniera, riuscire a capire che cosa li aveva preceduti, quali c'erano momenti di oblio, di dimenticanza, di lacerti che emergevano, di cui non si capiva il senso. A me questo tipo di relazione, che ha a che fare con la memoria, che ha a che fare con la costruzione del futuro, che ha a che fare ovviamente anche con le restituzioni, diciamo così, ad uso pubblico di questo passato, interessavano molto e naturalmente potete immaginare la stretta correlazione col tema del patrimonio, che è tipicamente un fatto da oggetti, da cose, prevalentemente nel nostro sistema, che sono state selezionate nel passato per sopravvivere nel futuro, dove quindi la storia ha ovviamente un'importanza decisiva. Avete capito perché siamo fortunati di averlo qua stasera con noi. Io sarei già soddisfatto. Me ne posso andare. Sei soddisfatto del tuo percorso professionale, di ciò che hai fatto fino ad oggi? Se sì, se no, ma soprattutto quali sono ancora, se ci sono ancora degli obiettivi che ti poni? Beh, io, diciamo, ho avuto poi un'avventura particolare perché ho fatto, diciamo, come capita ad alcune persone, due vite. Una vita che cerco di fare ancora, naturalmente, è quella del ricercatore, che ho fatto in certi momenti più intensamente, in altri meno intensamente, e quindi un lavoro di riflessione, di organizzazione del sapere, di restituzione del sapere, di comparazione fra pari, che è una cosa necessaria per chi fa ricerca, assolutamente necessaria, e dall'altra parte, invece, una vita di tipo amministrativa, civile, cioè un impegno finalizzato a realizzare cose. Quindi con una, con un taglio, assolutamente non teorico, un taglio che invece era empirico. Però con quale presupposto? Il presupposto è quello della responsabilità. Io ho fatto questa scelta un po' folle di fare l'amministrazione per cinque anni e poi di tornare a fare il mio mestiere, felicemente, perché sentivo nei confronti dei miei ragazzi ai quali insegnavo la Costituzione, la storia delle idee, i traguardi del XIX e del XX secolo, sentivo una sorta di, diciamo, di mancanza, cioè io, l'onere della prova, tu parli di tante belle cose civiche, civili, morali, e poi personalmente, poi tu, che cosa hai fatto per questo mondo che ci racconti, ci hai provato o non ci hai provato? Io l'ho sentito come un'esigenza, diciamo, di esperienza, cioè avevo nella mia mente l'idea che bisognasse confrontarsi con una realtà completamente diversa dal bel mondo nel quale vivevo, perché non c'è dubbio che un professore universitario al massimo della carriera vive in un mondo molto bello e quindi può fare a meno di tante cose e può anche decidere di non vedere certe cose e può persino fare il ricercatore di storia senza avere nessun interesse per ciò che lo circonda, che per me è un'aberrazione, perché secondo me, come insegnava il grande Fevre, il grande storico francese, se uno non si immerge nella vita, difficilmente potrà raccontare la vita degli altri se non è interessato a quello che lo circonda. E quindi questa è stata, diciamo, la seconda parte. Le due cose insieme alla fine si sono in qualche modo, diciamo, collegate. Perché? Perché da un lato facendo l'amministratore ho cercato di portare, diciamo, la razionalità dei miei processi di ricerca rendendomi conto che l'universo amministrativo è tutto fuorché razionale. E dall'altra parte, però, ritornando nel mondo della ricerca, ho imparato a essere molto più concreto ed esigente nei confronti del tempo che noi impieghiamo per lavorare, del tempo che ci diamo nella nostra vita. Era una cosa che prima non avevo messo in conto. Prima pensavo di avere una vita infinita come ricercatore davanti a me, dove la variabile tempo era una variabile, tutto sommato, poco interessante. Dopo aver visto quello che costa e conta il tempo nella vita quotidiana, se vuoi provare a realizzare le cose, questo gli imprenditori lo sanno benissimo, ma io non lo sapevo, ovviamente, ho imparato che anche nella vita del ricercatore questo aspetto, e soprattutto del ricercatore nelle scienze umane, perché mentre nelle scienze dure c'è comunque un meccanismo che impone dei livelli, degli step molto più cadenzati, nella ricerca delle scienze umane, le cose non hanno un tempo di realizzazione, possono esserci, non esserci, invece io credo che ci debba essere questa esigenza. Una parabola che ti porta da, come ricercatore, la tua passione per la storia, per il disvilamento del non detto e una restituzione fattuale della realtà avvenuta. Questo si accompagna a un senso di responsabilità, che però poi dopo ti porta anche un'esperienza amministrativa che ti insegna la concretezza del fare, seppure in percorsi non lineari come ci si potrebbe aspettare, che ti ritorna indietro un capitale che poi dopo puoi continuare ad applicare come ricercatore. Quindi in parte, un po', mi hai anche già risposto alla domanda successiva, almeno per questo aspetto della fattualità del fare, del costruire, del tempo, dell'organizzare, secondo te cosa significa imprenditorialità? O come, forse non so se è perfettamente corretto come termine, ma io amo parlare di imprenditività, cioè ritieni che nel tuo lavoro assolutamente poliedrico, multidisciplinare, a tratti non lineare, ci siano stati elementi tipici del carattere e dell'approccio imprenditivo? In parte mi hai risposto, ma ti chiedo se vuoi aggiungere un qualcosa. Beh, sicuramente io credo che questo aspetto sia legato, ci sia, sia chiaro che sta in questo tipo di esperienza ed è legato alla creazione di valore. Secondo me l'imprenditore crea valore, questo è il suo primo, è il motivo per cui è così centrale nella società, valore per sé, valore per gli altri naturalmente. Questo valore ha un collegamento spesso con gli oggetti e con i servizi, che sono, diciamo, l'elemento caratterizzante della vita dell'imprenditore classico, ha una valenza nelle relazioni, perché l'imprenditore costruisce tipologie di relazione e se anche tutti gli imprenditori non sono uguali, come sappiamo, esiste tuttavia una mentalità, una postura imprenditoriale che comunque caratterizza le relazioni e che secondo me è un valore e poi naturalmente c'è una dimensione sociale, che è quella di una restituzione che va anche al di là della produzione di valore e di ricchezza per la società e per se stessi, che è una cosa come l'Opificio Golinelli, per esempio. Imprenditori in erba, imprenditori umanistici, produzione di valore per sé e per gli altri. Per sé e per gli altri. E questo l'ha detto lui. La tua formazione, e tu oggettivamente sei un esimio cultore e rappresentante dei campi culturali in cui operi e in cui sei un ricercatore. Storia, filosofia, evoluzione politica e sociale del nostro paese. E evidentemente però qua ci iniziamo a avvicinare alla dimensione più gestionale e organizzativa della tua esperienza. E quindi il tuo percorso ti ha portato sicuramente e oggettivamente nel campo della gestione dell'organizzazione coaggiovato da collaboratori e da partner. A mio avviso, a parte l'esperienza come amministratore pubblico, io vedo in te un executive chairman, cioè una persona molto concreta e fattiva. Ho questa netta sensazione del tuo operare. E quindi non solo un ruolo di indirizzo, di garanzia, ma tu sei dentro alle cose. Credi che il segreto per ottenere degli importanti risultati sia in un buon lavoro di squadra o in generale preferisci un modello più incentrato sulla tua leadership personale? Allora anche qui c'è una differenza fondamentale. Come ricercatore, come storico, io, come tutti, quasi tutti gli storici, ero un lupo solitario. Uno che andava in archivio, faceva le sue ricerche, scriveva le cose, magari le faceva leggere ai suoi colleghi, ma dei percorsi in solitaria, cioè un navigatore solitario. Quando sono entrato nell'altra vita, diciamo, invece mi sono convertito a una logica completamente diversa. Cioè io credo fondamentalmente nello staff, cioè nel lavoro d'equip e collettivo. Naturalmente, con una prospettiva molto chiara, con una regola di ingaggio che deve essere un a priori assoluto, e cioè che colui che si infila dentro questo percorso, assumendo anche un ruolo di riferimento, deve lavorare più degli altri. Cioè, inevitabilmente. Se vuoi essere davvero un produttore di energie, non devi scaricare il lavoro, devi essere quello che le energie le crea, ma quindi che lavora di più. In assoluto. E credo che questa sia la cosa più complessa dei processi imprenditoriali. Cioè, sapersi circondare di persone in grado di interpretare il progetto che ha in testa, credo che non capiti, sia una cosa difficile, è una delle cose più difficili, secondo me, per il mondo imprenditoriale. Un sacco di imprenditori, sono anche loro dei navigatori in solitario, e tanto è vero che quando finiscono, dal punto di vista biologico, crolla anche tutta la loro azienda. Non sanno circondarsi di collaboratori, li scelgono male, hanno magari delle prospettive di, come dire, di prosecuzione in senso puramente familiare, ma questa è, dal punto di vista logico, una cosa che non sta in piedi. I caratteri, le propensioni delle individui sono, non si trasmettono per via genetica, no? Sono cose che a volte capitano, a volte no. Quindi, la scelta degli collaboratori e la creazione di una spinta propulsiva dentro lo staff, secondo me, è una necessità assoluta per chi vuole fare un'esperienza, diciamo, di tipo concreto, amministrativo. Aggiungo un'altra cosa. Quando ho fatto il sindaco, siccome era un'esperienza per me one shot, per cui potevo permettermi di fare, diciamo, qualche scelte che normalmente non si fanno, feci questo tipo di ragionamento. Le persone che ti accompagnano in una campagna elettorale, normalmente sono persone che non sono adatte a governare. Perché per governare tu hai bisogno di competenze e quindi di circondarti di persone che hanno a mente la città nel suo complesso, i servizi, e che magari nella campagna elettorale non sono in grado di prendere un voto, tanto per dire. E le persone che invece fanno le campagne elettorali sono persone appassionate, che danno il cuore, ma che magari non hanno competenze o non sono in grado di interpretarle in un senso collettivo, come poi quando si governa una città bisogna dimostrare di avere, perché si governa per tutti, non solo per una parte. E quindi io feci questa scelta e cioè scelsi assessori, prevalentemente fuori da tutti gli schemi, praticamente nessuno di quelli che aveva fatto la campagna elettorale con me. Naturalmente questo creò qualche piccolo malumore, come potete immaginare, ma mi ha garantito cinque anni con persone che poi hanno dato. Cioè hanno dato la loro competenza per la città e che poi sono tornati a fare il loro mestiere, naturalmente. Quindi credo che bisogna avere anche questo coraggio. Troppo spesso si è prigionieri delle relazioni, anche amicali, ed è difficilissimo separare queste fasi e queste esperienze, però bisogna farlo. Grazie per questa risposta che secondo me è emblematica e perfetta. Adesso qua c'è un po' le domande successive, un po' le domande dalle 100 pistole, sono per quanto concedo una risposta sintetica, però è fondamentale fartele. Cosa pensi in merito allo sviluppo tecnologico esponenziale a tanti imprevedibili che stiamo vivendo in questi anni e come questo eventualmente influenza il tuo lavoro e in generale il lavoro nell'ambito del settore dei beni culturali? Questo è un tema assolutamente centrale e adesso cercherò di spiegare perché. noi abbiamo come sistema Italia una enorme quantità di dati ormai digitali sui beni culturali e enormi banche dati che sono nel ministero che sono dentro l'Ibc che sono dentro i comuni delle più varie origini. Qual è il grande problema? Che noi questi dati non li sappiamo interrogare, non li restituiamo, ci riesce Google perché ne fa dei percorsi che vanno benissimo per portare le persone nei musei ma quello che a noi interesserebbe veramente è riuscire a trovare delle connessioni attraverso questi dati che rappresentano un valore aggiunto nella conoscenza e quindi abbiamo un enorme problema a creare quelle che si chiamano nel linguaggio informatico delle ontologie cioè dei sistemi di senso e di interrogazione che riescano a essere funzionali da un lato alla ricerca e dall'altra parte alle narrative che oggi sono importanti per fare un salto di qualità a coloro che questi beni li vedono li usano che vengono in contatto con i beni perché dico questo perché la mia sensazione è che l'uso del digitale che noi ci figuriamo per lo meno nel settore del patrimonio sia ancora primitivo è di tipo quantitativo è fatto per siti è fatto per luoghi è fatto per destinazioni turistiche ma non è fatto per produrre conoscenza non è fatto per produrre nuova conoscenza su questo c'è un enorme spazio che non può essere coperto solo dagli informatici gli informatici sono degli interlocutori necessari ma ci deve essere una riflessione filosofica sulla qualità epistemologica di questa trasformazione della trasformazione digitale che attualmente è in corso in alcuni posti del mondo ma non è diffusa faccio un esempio banale che naturalmente è diciamo una goccia rispetto all'argomento è una cosa ridicola allora dovete sapere che uno dei progetti dell'Ibc anche sulla scorta di una richiesta fatta dall'associazione delle vittime è stata quella di digitalizzare i processi del 2 agosto e della italicus cioè due processi collegati il tribunale concede di versare all'archivio di stato questi 450 500 faldoni questi 550 faldoni non sono solo gli interrogatori tutta la documentazione raccolta da carabinieri guardia di finanza perquisizioni quello che volete permetteli a disposizione fra virgolette della ricerca naturalmente da condurre dentro l'archivio di stato per motivi di privacy come potete immaginare ci sono quantità di nomi di tutti i generi cosa fa l'istituto dei beni culturali si rende conto che questo patrimonio così non ha senso chi è che lo apre anche fisicamente 400 500 faldoni come si costruisce la ricerca impossibile umanamente per uno non ci può arrivare allora proviamo ad applicare un meccanismo di ricerca OCR che consente sui testi battuti a macchina di fare ricerca per parola o per frase su tutto il complesso del digitalizzato naturalmente i familiari delle vittime cosa cercano i nomi banalmente se ripercorre se ricorre il nome di Licio Gelli dico uno a caso per capire se viene fuori qualcosa di nuovo per le indagini non è il mio problema io voglio capire se attraverso questo processo riesco a capire di più della società italiana degli anni 70 quindi a mettere insieme delle altre cose ma per riuscire a creare delle ricerche di senso la cosa non è banale perché non è che possa mettere a caso dei nomi e vedere quello così come sparare un colpo in aria vedere se viene giù un piccione o un gabbiano non è quello l'argomento io debbo creare prima dopo aver fatto ricerche sul periodo un perimetro di termini che rappresentino per me delle parole frasi chiave sulla base delle quali costruire un'ipotesi di ricerca voi capite bene che impostare una ricerca su un lessico piuttosto che impostare una ricerca sulla diciamo esame diretto e seriale dei documenti come succedeva per chi faceva il mio mestiere 35-40 anni fa per cui andava in archivio e con le schede vedeva quello che veniva fuori è un modo di impostare il lavoro completamente diverso questa non è che una microscopico caso ma vi dà l'idea di come questo elemento sia centrale ora qual è il punto che questa figura umanistica che è centrale per lo sviluppo di quelli per l'analisi dei big data non c'è disciplinarmente cioè se voi andate a vedere nelle discipline insegnate c'è quel letterato c'è lo storico c'è l'anthropolico e c'è l'informatico spesso si chiede all'informatico quello che non può dare perché lui ti dice guarda che tu mi devi aiutare perché io da solo io posso produrre dei meccanismi per trovarti una soluzione ma il problema deve essere tuo solo che tu lo devi impostare secondo una chiave di lettura dei dati di conoscenza che non è quella che appartiene alla tua cultura di origine che era limitata quantitativamente e con le domande che tu ponevi i documenti che erano limitati in base alla possibilità che avevi di esaminarli è chiaro che adesso cambia completamente l'orizzonte quantitativo devi costruire una macchina epistemologica diversa credo che questo sia la grande sfida per le scienze umane almeno nel settore del patrimonio ma sono convinto non solo questa secondo me è una lezione straordinaria e a questo punto chiederemo al professor Balsani di intervenire anche nella scuola di dottorato in data science e computation che la fondazione Gorinelli è promossa con l'Università di Bologna e col Politecnico di Milano perché questo è il valore reale di tutto ciò che c'è nel mondo dei big data ovviamente occorre sapere programmare di Python occorre sapere cosa è una funzione di sigmoide ma non te ne fai nulla nulla di nulla se non hai questo tipo di approccio e quindi anche la visione computazionale dei big data è assolutamente superata e inutile se non supportata da una visione filosofica culturale umanistica che ragiona su il trovare il problema epistemologico di un nuovo umanesimo e non di un transumanesimo tecnologico che ci trascina verso qualcosa che assolutamente ignoriamo mi fermo qua scusa mi entusiasma il professor Balsani e questa è l'altra domanda dalle 100 pistole siamo nell'unico luogo italiano che oggi si definisce con orgoglio 100 arti e scienze cosa pensi delle relazioni tra le arti e le scienze io ne penso ovviamente solo bene nel senso che credo che gli elementi di creatività che si producono nella interrelazione fra il mondo della percezione artistica non solo come fatto estetico ma come elemento di creazione del senso e quello scientifico tecnologico sia una assoluta necessità e vi faccio un esempio pratico l'esempio sono gli oggetti delle scienze che sono nei miei musei accademici allora è chiaro che io ho i colleghi fisici che sono fisici delle particelle che fanno le loro ricerche e ho dall'altra parte degli oggetti che sono appartenuti a altre generazioni di scienziati che sono totalmente muti nel senso che non comunicano più nulla perché non sappiamo neanche chi li ha costruiti salvo poche rare eccezioni a che cosa servissero quali fossero le prove di laboratorio che avvenivano come queste avessero a che fare con la pedagogia cioè la riproposizione del sapere o con la ricerca vera e propria perché noi abbiamo alcune macchine come anche oggi che sono ripetitive di esperimenti e altre che sono creative di esperimenti e fra le due c'è una bellissima bella differenza ovviamente quindi qual è la sfida è quella di riuscire a spiegare che questi oggetti non parlanti oggi che hanno un contenuto estetico alcuni sono molto belli non sono apparentemente non significativi hanno una narratività implicita come faccio a prenderla naturalmente ho bisogno di ricercatori che vadano a fare questi percorsi ma poi per comunicarla ho bisogno di creare dei ponti narrativi con l'oggi senza i quali per le persone sono cose diciamo bizzarre di un tempo passato e questi ponti narrativi spesso vengono creati utilizzando il linguaggio dell'arte contemporanea che li risitua in un presente il che significa che non li spiega attenzione ma che riaccende un faro di interesse e intorno a quel faro di senso di interesse e poi si ricollega quella narrazione estinta che implicitamente io cerco di ricollegare spesso ho bisogno di questo ponte questo vale per il passato ma vale anche per il futuro io faccio esperimenti su oggetti di un passato spesso recente o a volte remoto ma la stessa cosa si può fare per diciamo accendere la spia per il futuro lo stesso meccanismo naturalmente non è facile perché bisogna trovare la forma artistica che non sia pretestuosa e molti artisti sono semplicemente innamorati di queste cose perché fanno moda invece ho bisogno di una ricerca artistica che si collega alla mia ricerca non perché debba appunto essere un sovrappiù di senso ma perché deve semplicemente riaccendere l'interesse io ho bisogno di riaccendere l'interesse io lo dico perché io insegno la storia che è una disciplina secondo me de modè in questo momento un po' presentificato e la mia tutti i giorni quando apro diciamo i miei corsi il mio obiettivo è quello di vedere le facce dei miei studenti e dico e questi come accendo l'interesse ma siamo sicuri che ce l'hanno veramente come faccio a invogliarli a porsi delle domande non dico che debbano fare la storia è un insieme di domande per il presente per il passato per il futuro ma così sono le scienze umane le scienze umane sono tutte la creazione di domanda è la domanda che è l'innesco della curiosità e poi della creatività un'ultima domanda anche questa un po' articolata diciamo che stamattina sulla Repubblica c'è un trafiletto che annunciava questo incontro il giornalista ha fatto una sintesi mirabilissima chiedete a Barzani come va gestito un museo integrato e la domanda l'ultima domanda infatti che ti volevo fare se potevi fare un accenno a come stai conducendo il sistema museale di Ateneo come presidente ma anche l'istituzione beniculturale della regione minero magna evidentemente sono due realtà diverse però sono composite multidisciplinari integrate complesse e quindi dalle tue parole quali sono gli elementi più interessanti che ritieni di poterci segnalare dunque parto da quello dell'istituto dei beni culturali perché lì la partita è una partita molto delicata perché l'istituto dei beni culturali nasce in Emilia Romagna nel 1974 sei mesi prima del ministero dei beni culturali con la volontà della regione di creare una sorta di diciamo di istituto di ricercatori funzionari che hanno per scopo quello di tutelare il patrimonio con una visione quindi del regionalismo che sia in qualche modo non semplicemente un atto amministrativo ma un atto identitario questa è l'ambizione dell'epoca dell'allora presidente Fanti della regione Emilia Romagna ma non ce n'erano molti in giro che avessero questa idea tant'è vero che l'istituto è rimasto l'unico in Italia non c'è nessun'altra regione italiana oggi questo istituto che naturalmente è diventato molto meno di ricerca di una volta molto più anche di gestione di leggi regionali quindi si è appesantito burocraticamente ha per me una funzione fondamentale che è quella che cerchiamo di rivitalizzare e cioè quella di fare riflettere le amministrazioni locali in primo luogo ma anche i privati tutti coloro che sono inseriti nel contesto del patrimonio che il tema del patrimonio nel nostro tempo è un tema non più come dire a senso unico come nel 1974 nel 1974 c'era l'Italia aveva le sue leggi che derivavano erano del 1909 del 1939 queste leggi identificavano gli oggetti le cose come elemento fondamentale e la tutela delle cose come primo scopo della 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 politica della politica del ministero del patrimonio quindi si trattava di tutelare perché questi beni erano soggetti a dispersione venivano portati all'estero contrabandati soprattutto i beni immobili e poi si trattava di selezionare quei beni che dovevano essere trasmessi al futuro e che dovevano andare a finire nei musei chi lo decideva lo Stato attraverso che cosa un corpo di funzionari che stavano nelle soprintendenze e questi dicevano qual era il pezzo di futuro di passato che doveva andare nel futuro cioè decidevano se quello che era il patrimonio dei musei eccetera doveva essere tutelato oppure no quindi come vedete una visione molto particolare legata alle cose invece in che mondo stiamo noi siamo nel mondo della convenzione di Faro del 2005 convenzione europea cosa dice la convenzione di Faro che il patrimonio è il frutto di una relazione fra quelle che la convenzione chiama risorse che quindi possono essere materiali immateriali possono stare nei musei possono stare fuori dai musei e così via poi ci sono le popolazioni territori e poi naturalmente ci sono dall'altra parte quindi non c'è lo Stato e c'è invece la diciamo e ci sono le popolazioni e i territori quindi sono queste le tre collegamenti quindi lo spazio fisico dei territori le popolazioni e le risorse i quali negozialmente dal basso decidono che cos'è patrimonio come vedete un'altra cosa un altro mondo non c'entra niente con quello italiano tuttavia non lo dice nessuno perché perché se domani mattina lo diciamo c'è un ministero che chiude se diciamo che l'Italia sta dentro la convenzione di faro diciamo le soprintendenze tutte queste perché non ci sono più le persone abilitate a scegliere che cosa conservare naturalmente questa visione di patrimonializzazione dal basso diciamo così ha un grosso limite che è un processo eminentemente sociale e non culturale qual è la differenza che il processo sociale risponde a dei bisogni del presente il processo culturale di selezione dei beni da trasferire nel futuro aveva bisogno all'epoca di un tempo che passava faceva decadere il senso delle cose la maggior parte delle cose va nel bidone come sappiamo 99% di quell'1% che si salva dopo un certo numero di anni qualcuno decide di mettere nei musei era una logica derivante se vogliamo da una saggezza antica e cioè che noi portiamo di noi nel futuro pochissime cose e quindi dobbiamo selezionare è chiaro che questa era una visione fortemente selettiva l'altra una visione fortemente inclusiva perché ha a che fare con invece un meccanismo discorsivo di coinvolgimento secondo me perché questo successo del patrimonio perché tutte le altre agenzie di socializzazione hanno fallito ci sono più i partiti la scuola la chiesa i carabinieri la magistratura ormai è tutto bruciato gli unici luoghi in cui ancora c'è un'aura ancora per qualche tempo forse sono i musei dove le persone stanno zitte quando entrano e cercano di guardare le cose sono rimaste uno dei pochi luoghi in cui si crea una specie di comunità chiamiamola così chiaro che far convivere queste due cose è difficilissimo perché poi nelle amministrazioni molti senza saperlo si muovono nella logica di faro anche se pensano di essere in quella dello Stato e quindi per me oggi l'Istituto dei beni culturali a livello nazionale deve diventare il luogo in cui questi elementi vengono discussi perché lo Stato non lo fa perché ha paura di delegittimarsi perché se pone il problema volete uno volete l'altro sappiamo che cosa si apre nel paese a livello locale non c'è consapevolezza nei comuni chi gestisce un museo non si rende sempre conto di questi processi un'organizzazione intermedia che invece socializza questi temi io credo che sia di vitale importanza anche per riuscire a portare nel futuro consapevolmente una quota di patrimonio si è scelto esso nell'uno o nell'altra maniera per quello che riguarda i musei universitari noi i musei universitari stanno in una logica a metà strada sono fatti di cose ma sono cose che fanno fatica a parlare non sono auto evidenti come un museo d'arte sono oggetti spesso anche naturali come quelli botanici scarsamente parlanti e quindi ho un disperato bisogno di narrativa per riuscire a portarli con me cioè a giustificare la risorsa che l'università impiega per conservarli e quindi lo sforzo è proprio quello di saldare alle cose le relazioni e per fare questo ho bisogno di tutti ho bisogno dei ricercatori che hanno fatto ricerche originali ho bisogno delle scuole che vengono e a cui io costruisco didattiche appropriate ho bisogno dei musei stranieri con i quali mi confronto perché siamo a livello di pari nel mondo 15-20 realtà a livello mondiale sono su questa strada e dall'altra parte ho bisogno pure dell'opinione pubblica perché questa farà sì che si giustifichi ecco ritorna l'amministratore dal punto di vista universitario l'appostamento di una risorsa materiale che mi serve per sopravvivere quindi questo è un po' la sfida dei musei universitari naturalmente poiché noi non abbiamo i soldi per fare delle grandi mostre abbiamo fatto una scelta diversa cioè quella di fare micromostre cioè piccole pillole di iniziative tutte volte a pubblici targettizzati di volta in volta che però abbiano il medesimo effetto cioè quello di alzare la palla dell'interesse in modo tale da lasciare poi qualcosa nelle collezioni questo però significa che ho bisogno di uno staff molto bravo che lavora con me e per fortuna ce l'ho grazie per favore facciamogli un enorme primo applauso per favore adesso la parola la parola a voi arriva il microfono buonasera mi ha interessato molto il discorso sulla tecnologia perché studio digital humanities all'università di bologna ed è un argomento che ovviamente esce molto fuori qui alla summer school sto progettando con vanessa un'idea che riguarda l'analisi automatica del linguaggio dei testi delle recensioni di istituzioni culturali per poterle classificare e poter fornire dei dati su grafici più specifici per il linguaggio che concerne appunto le istituzioni culturali e ci chiedevamo se potesse essere uno strumento utile per un museo un sistema museale o se corrispondesse effettivamente a un'esigenza abbiamo già avuto dei feedback da alcune istituzioni tipo il Museo Nazionale Romano e anche ad esempio la Biblioteca dell'Archiginnasio però chiaramente ci stiamo ancora chiedendo se è effettivamente qualcosa che potrebbe servire o meno e se sì anche quali potrebbero essere i limiti secondo me ha senso per quelle istituzioni museali che stanno in un universo internazionale cioè questo è chiaro cioè se si hanno oggetti musei di oggetti o di altre cose di opere d'arte quello che si vuole che sta in una rete internazionale che può in qualche modo essere reciprocamente arricchita dalle informazioni e dove questo elemento della ricerca cioè dell'acquisizione di informazioni diventa centrale secondo me può avere un forte senso perché può indirizzare alcune politiche interne dei musei sicuramente può essere di aiuto per indirizzarle non è diciamo un fattore esclusivo ma è un fattore adiuvante diciamo così io lo vedo in questa chiave sicuramente in positivo grazie altre domande poi dopo ne ho un'altra io buonasera lei ha parlato di didattiche appropriate che partino dal patrimonio e si rivolgano alle scuole ai visitatori in generale quante sono le occasioni in cui un museo riesce effettivamente a mettere a disposizione le risorse per farle per produrle queste didattiche questi materiali ma secondo me ormai è sempre la risposta cioè se un museo non ha un'unità didattica cioè una risorsa specificamente specializzata nella didattica e nell'innovazione della didattica e quindi anche con la valutazione dei feedback che di volta in volta possono venirne questo museo non parla diciamo perché la didattica in realtà non è una didattica solo rivolta al mondo delle scuole attenzione noi abbiamo bisogno di didattiche che sono fatte per cittadini di altri paesi didattiche che sono fatte per gli adulti didattiche che sono fatte per tipologie particolari di pubblico quindi quando uno dice ma qual è il tuo pubblico questa è una domanda classica il pubblico dei musei è un pubblico per forza di cose generale difficilmente uno cerca di beccarlo tutto ma poi si rende conto che deve costruirlo per pezzi e l'elemento didattico è un elemento di indubbia capacità di facilità è un grande facilitatore per cui su questo secondo me non si può non si può transigere cioè una all'interno di una logica di struttura di staff museale la persona che si opera di didattica è inevitabile se si vuole essere un museo ecco prego salve mi è interessato questa cosa che diceva ogni museo deve avere un'unità didattica o comunque delle competenze per rendere il museo parlante verso il pubblico verso il suo territorio verso la sua comunità ipotizziamo che queste competenze in un museo più piccolo non ci siano e lei fosse il direttore sarebbe disposto a prendere queste competenze da esterni all'istituzione museale allora sicuramente sì ovviamente se avessi soldi ma siccome i musei piccoli spesso non ce li hanno si apre un problema allora questo problema è derivato dall'idea di patrimonio che ho esposto prima proprio perché il patrimonio è un processo ormai dal basso noi assistiamo a questo strano fenomeno in Italia che è la moltiplicazione dei musei e la diminuzione costante dei finanziamenti ai musei medesimi sono due processi abbastanza strani ma assolutamente verificabili anche nella nostra regione Emilia Romagna che pure è una regione ricca diciamo che si può permettere molti musei perché questo avviene perché spesso coloro che aprono un museo non pensano alla gestione del museo che è ovviamente una delle cose più complicate da realizzare di solito i sindaci vogliono tagliare dei nastri quindi la risorsa per costruire un museo per fare un allestimento la si trova sempre bene o male il giorno dopo cominciano i problemi allora da questo punto di vista io credo che vada questo è uno degli obiettivi anche dell'IBC affermata una diciamo un'idea che secondo me serve per salvare il patrimonio perché è chiaro che il patrimonio in piccoli musei che non sono in grado di tenere un determinato regime di sicurezza di conservazione dei beni di valorizzazione sono destinati a morire una questione di tempo ma che quello se il loro destino è sicuro che cosa qual è l'idea che oggi fra l'altro di cui si dibatte anche a livello internazionale a livello di ICOM cioè l'associazione che si occupa dei musei a livello europeo e mondiale ed è il diciamo il disaccoppiamento del luogo della conservazione della tutela dal luogo della esposizione e della valorizzazione mi spiego meglio il museo è il luogo ideale dove i beni sono conservati tutelati custoditi restaurati e poi valorizzati questo è il museo ideale che deve avere il deposito che deve avere il restauratore che deve avere quello che si occupa della didattica tutte queste cose quanti sono i musei che hanno questa natura un numero esiguo la stragrande maggioranza dei musei non ha queste risorse e quindi è a rischio è a rischio sopravvivenza perché perché aumentando la domanda di musei le risorse per ciascuno di questi già sottofinanziati tendono a azzerarsi allora la mia idea è la seguente non è poi la mia è un'idea però a me piacerebbe fare un esperimento nella regione Emilia-Romagna su questo la mia idea è quella di costruire dei depositi attivi di beni dei luoghi dove mettere insieme i beni di un determinato territorio che siano depositi non attenzione dei luoghi di pura conservazione depositi attivi dove ci siano figure in grado di fare effettivamente la catalogazione il restauro anche visite guidate anche piccoli laboratori per studenti per chi vuole venire ma che in qualche modo tolgano alle singole amministrazioni il peso della conservazione della tutela lasciando invece nelle realtà che se lo possono permettere i luoghi dell'esposizione dove si possono organizzare mostre ciclicamente o laboratori o esposizioni varie cambiando e attingendo a questi depositi naturalmente per far questo bisogna avere delle dimensioni ottimali che non abbiamo ancora studiato perché naturalmente bisogna rompere poi quelle che potremmo chiamare le gelosie municipalistiche naturali perché nessuno vuole mettere i soldi per i musei ma se io devo dare a una città vicino non so dove c'è un deposito una dei miei piccoli oggetti no perché vengo depauperato di un bene identitario e quindi io piuttosto mi faccio legare anche se non sono in grado di conservare quindi c'è da fare un grande lavoro di costruzione di una sensibilità bisogna studiare la taglia giusta provare a vedere insieme con la soprintendenza e anche con il mondo privato perché no la costruzione di uno di questi depositi lasciando a livello territoriale i luoghi dove poterli esporle perché quelli costano meno se io voglio ho una sagra in un paese voglio anche metterci una piccola esposizione posso permettermi magari ho la risorsa per avere la sicurezza per avere le persone che guardano questi beni che li valorizzano con dei percorsi guidati ma per tenerli tutto l'anno perché tutto il resto dell'anno questi giacciono in qualche modo inesitati quindi questa sarebbe una politica dei depositi separata dalla politica di valorizzazione proprio per costringere le realtà a riflettere sul patrimonio e per dire cos'è che io debbo portarmi dietro del mio patrimonio se lo voglio conservare lo debbo dire perché lo debbo mettere in una cassaforte se no lo perderò che è il processo che è avvenuto durante la seconda guerra mondiale durante la seconda guerra mondiale gli italiani erano convinti di poter salvaguardare i loro beni con dei sacchetti di sabbia intorno alle cattedrali perché non sapevano che cosa li stava aspettando cioè i bombardamenti a tappeto angloamericani prevalentemente quando si resero conto che non servivano quelle disposizioni che erano state date dal ministero nel 1939 cominciarono a porsi il problema dove mettiamo i tesori e questi tesori incominciarono a girare per l'Italia naturalmente la risposta più saggia ma assolutamente improponibile per uno stato sovrano era diamogli agli svizzeri così loro li tengono nelle cassaforti e alla fine della guerra ce li prendiamo ma chiaramente per uno stato fare una cosa del genere cioè dare incomodato un patrimonio da tenere in una cassaforte è qualcosa di inconcepibile anche oggi non solo io e quindi che cosa fanno questi cominciano a portare i beni in giro per l'Italia una grande parte finisce negli anni nel 43 nella rocca di Sasso Corvaro nelle Marche dove va tutto il patrimonio della galleria dell'Accademia di Venezia pensando che ci sono le mura se anche tirano qualche bomba è difficile che venga giù tutto non calcolano che c'è l'8 settembre che sta arrivando cioè arrivano i tedeschi e quindi incomincia una specie di storia incredibile che porterà poi questo patrimonio nella città del Vaticano a un certo punto finché Roma non viene liberata eccetera eccetera ma quella è una storia bellissima perché ci insegna che cosa significa cedere il patrimonio e che cosa significa scegliere il patrimonio che deve essere tutelato a tutti i costi perché erano i direttori che dovevano dire questo sì questo no perché tutto non ci stava allora noi oggi non abbiamo per fortuna quel dramma però un dramma economico ce l'abbiamo sappiamo che quel materiale non lo porteremo tutto con noi naturalmente che cosa fanno i comuni e le regioni danno soldi per aprire i musei perché se ne fregano perché vogliono il consenso è evidente perché se uno dice costruisco un deposito non è molto diciamo sexy è molto meglio dire apriamo un nuovo museo ma se diciamo fossimo previdenti dovremmo invece rovesciare e dire benissimo come noi tuteliamo il patrimonio come riusciamo a valorizzarlo in termini territoriali chi trova una soluzione a questo problema non dico che vince un premio Nobel ma comunque diventa famoso sicuramente in Europa Roberto la nostra ora insieme si conclude e ti faccio una domanda che pensando all'intervento di Cristian Greco la scorsa settimana che riflettendo sulla Costituzione proponeva di sostituire le parole tutela e valorizzazione con la parola cura sei d'accordo pensi che si possa sottoscrivere questa cosa? Diciamo che da un punto di vista della culturale sicuramente sì tutte le valorizzazioni sono aspetti collegati alla struttura giuridica dello Stato quindi ci sono gli organi preposti alla tutela e alla conservazione che è lo Stato la valorizzazione che è le regioni e gli enti locali per cui la parola cura questo dico io se la dobbiamo mettere in una Costituzione la mia domanda da uomo pratico da amministratore dico deve essere giuridicamente esigibile non so se è chiaro non posso mettere delle parole così diciamo che mi piacciono nella Costituzione ci sono parole che diventano cose a servizi atti giuridicamente esigibili attraverso il diritto costituzionale per cui poi Cristian mi dovrebbe dire come si traduce nella prassi quotidiana ma sono molto contento di questa risposta perché è ovvio che filosoficamente e culturalmente è una provocazione interessante e sposabile però assolutamente non deve essere neanche un lancio un po' troppo facile è giusto pensare poi dopo alla concretezza della ricaduta di quello che concretamente questo può comportare sì perché noi siamo di solito siamo abituati a leggere la Costituzione come se fosse una specie di tavola dei valori che esistono ma la Costituzione in realtà è fatta di parole pesatissime ai quali si connettono dei diritti o delle attività che vengono svolte dallo Stato che il cittadino può attivare o le istituzioni possono attivare e in quell'articolo ci sta esattamente questo anche se è molto romantico allora ragazzi domani è la giornata conclusiva domani pomeriggio ci vediamo tra l'altro loro presenteranno i loro lavori e anche se è una scuola diciamo ci sarà una sorta di no una sorta un concreto premio finale a una delle loro idee per dare un incentivo a prendere il volo e quindi sarà un pomeriggio importante ringraziamo definitivamente il professor Barsani per essere stato qua con noi e ripeto penso che anche in questo caso lui stesso abbia parlato da solo rappresenti esattamente almeno dal nostro punto di vista uno un importante stimolo importante obiettivi importante approccio da seguire ed è attraverso di lui forse che passa questa testimonianza il miglior insegnamento o il miglior auspicio che noi ci poniamo nel sostenere un'iniziativa come questa come la Summer School in Entrepreneurship in Humanities vi ringrazio molto tutti quanti per l'attenzione ci vediamo domani grazie infinite Roberto Barsani